Che cos'è l'Enterprise 2.0? Contrariamente a quello che molti manager e anche molte aziende ancora pensano, l'Enterprise 2.0 non è tanto l'introduzione di social software o social media all'interno dell'azienda, anche se questi strumenti chiaramente sono gli abilitatori. E non è tanto neanche la trasposizione del 2.0 all'interno dell'impresa. A mio avviso è molto più profondamente un rinnovamento dei meccanismi di management, dei meccanismi interni di funzionamento delle aziende, per far fronte ad un insieme di sfide che stanno emergendo dal mercato. Quali pensi che siano i maggiori ostacoli su questa via? Inquadrando l'Enterprise 2.0 è più complessivamente quello che ormai si definisce social business, proprio sotto la lente del cambiamento, del change management, gli ostacoli sono tantissimi, perché andiamo a toccare delle pratiche, delle abitudini, delle situazioni di comfort in cui manager, ma anche tutti gli altri dipendenti, si sono trovati negli ultimi 10, 20, 30, 40 anni. Quindi sono resistenze legate alla scarsa conoscenza delle potenzialità, resistenze tecnologiche. C'è un'enorme resistenza poi concettuale, veramente di management e leadership, stiamo dicendo che il potere viene restituito alle persone. Tutte queste resistenze e rischi possono essere affrontate durante il progetto, quindi di fatto non sono queste che minano il successo del progetto. Il successo del progetto è minato molto di più da un management che non capisce dove il mercato sta andando e dove le aziende stanno andando. Per quello che riguarda la comunicazione interna alle aziende, mi sapresti spiegare un po' meglio com'è il quadro della situazione attualmente per quanto riguarda questo aspetto? Sì, tutte le organizzazioni di una certa dimensione oggi ancora lavorano per silos. Il problema è che questi silos introducono un'enorme barriere alla circolazione dell'informazione, alla reattività delle risposte verso l'esterno e alla stessa possibilità di realizzare l'organizzazione in un'ottica customer centrica. Chiaramente questi silos impediscono all'organizzazione di fornire un'unica esperienza. Uno dei concetti più importanti del social business, del social CRM è proprio quello di creare un'unica interfaccia, un unico asse che riorienti tutte le attività customer facing che l'azienda esegue. Qual è la tua visione di quello che dovrebbe essere il social CRM? Il social CRM esiste nel senso che esistono delle necessità che stanno emergendo grazie alla spinta dei social media e da un nuovo ruolo che i consumatori hanno rispetto all'azienda. E quindi l'azienda in qualche modo deve prendere atto di queste conversazioni che non necessariamente la includono e possibilmente trarne beneficio. Social CRM non è mettere su una pagina in Facebook o neanche lanciare una community o neanche fare social media marketing o social media monitoring. È un nuovo approccio di coinvolgimento del cliente in un'ottica più trasparente, più bidirezionale, più onesta. Pensi che sia quantificabile effettivamente il valore di questo tipo di ambassador, diciamo, per l'azienda? Ma secondo me sì, allora proviamo a spiegarci. Non credo che esista un ritorno delle enterprise 2.0 o un ritorno del social media marketing. Come non c'è un ritorno del telefono o della media? Senta semplicemente di approcci, approcci che devono essere declinati rispetto ad una strategia degli obiettivi di business. Il tema non è la collaboration, ma che cosa fai con la collaboration e quanto riesci a legare questi approcci alla vita, al contesto e agli obiettivi dell'organizzazione. E questo purtroppo è qualcosa che manca sul mercato. Vediamo sempre più brand esporsi sui social media per poi vedere la pagina che non attira utenti, che non c'è un contenuto di interesse. È semplicemente l'ennesimo canale in broadcast, one way, con messaggi pubblicitari a cui l'azienda ci ha abituato nei decenni scorsi. Fatto in questo modo, giusto per dire ci siamo anche noi, ma forse è più controproducente che efficace e utile all'organizzazione. Secondo te, in quest'ottica, la necessità di essere social prima all'interno per riuscire ad esserlo con i propri clienti, pensi che questo tipo di approccio possa portare a un'effettiva degerarchizzazione delle aziende? Il tema della distruzione delle gerarchie o della decentralizzazione del potere decisionale è chiaramente un tema che si ritrova in tutto il management moderno. La realtà è che l'enterprise 2.0 non necessariamente propone una distruzione delle gerarchie. A questo punto, quale livello di maturità hanno raggiunto, per esempio, le intranet? Si comincia a parlare, e si parla già da un po' di tempo, di intranet 2.0. Anche qui stiamo vivendo una fase di redesign, ripensamento della intranet tradizionale, da uno strumento top-down per la comunicazione del management, dell'organizzazione, della corporate, verso i dipendenti, a un ambiente in cui sempre più le persone possono lavorare. Quindi esistono degli strumenti per svolgere attività in modalità self-service, day by day, e in cui le persone possono anche collaborare. Però anche qui spesso è un percorso accidentato, è un percorso che richiede più un'evoluzione culturale che un'evoluzione della tecnologia. Le tecnologie sono disponibili. La verità è che il rischio più grande non è la sicurezza, non è il far trapelare delle informazioni delicate, non è quello che le persone possono scrivere nelle piattaforme. La grande difficoltà e il grande rischio è che dentro queste piattaforme non entri nessuno. Quindi ciò che le aziende, tantissime aziende, che siano lanciate in questi approcci riscontrano è che magari questi approcci non funzionano non perché c'è un'eccessiva partecipazione, ma perché non c'è proprio partecipazione. Qual è la paura che il top management ha riguardo all'adozione di questo genere di strumenti? Secondo me la paura è duplice. Da una parte c'è un tema di consapevolezza sui benefici. Buona parte dei manager obiettivamente dicono di avere altre priorità. La seconda paura è quella del controllo, quindi del non saper gestire quello che potrebbe succedere in azienda e di non saper gestire. Grazie. Grazie. Grazie.